Scacco della polizia della questura di Chieti ad una gang che ha seminato furti nei bancomat del Pescarese e del Chietino. Al termine delle indagini partite da Chieti e durate due anni, gli agenti della squadra mobile agli ordini del primo dirigente Miriam D'Anastasio, nell'ambito dell'operazione denominata Open Hall, hanno tratto in arresto quattro persone, di cui tre finite in carcere e la quarta ai domiciliari. Come ha spiegato in conferenza stampa questa mattina il questore Antonino Gargano, il cavallo di troia dell'organizzazione era un insospettabile che era specializzato ad aprire le casseforti. Le indagini hanno avuto impulso dopo tre furti compiuti a Chieti, le somme in totale asportate superano i 600 mila euro, posti sotto sequestro gli arnesi utilizzati per compiere i furti. Abbiamo l'organizzatore, colui che selezionava gli obiettivi che potevano essere attenzionati. Abbiamo la figura del palo che oltre a selezionare faceva sì che l'attività criminosa venisse posta in essere, in tranquillità, tra virgolette. Poi abbiamo lo specialista, colui che effettivamente portava a compimento i furti. ed abbiamo quello che abbiamo definito l'infedele, ossia il soggetto che forniva i codici, in grado di fornire i codici di sblocco, di apertura delle casseforti, le chiavi per poter accedere ai locali, mettendo insieme tutte le tecniche investigative a disposizione e da quelle classiche e tradizionali come pedinamenti, osservazioni, alle quelle più sofisticate, quindi riconoscimento facciale, indagini relative ai telefoni, tutte le attività possibili e immaginabili sono state poste in essere e siamo arrivati ad avere il risultato odierno. Abbiamo ricostruito due anni di attività del gruppo criminale, due anni dove sono stati portati a compimento nove furti di cui sei effettivamente realizzati e tre tentati, quindi dal 2019 all'ultimo episodio di giugno 2021.